Resin Podcast del giorno dopo ma molto corposo perché nel Gran Premio dell'Arabia Saudita che si è corso ieri è successo veramente di ogni da grandi duelli in pista a grossi limiti della direzione gara e per concludere un arrivo a pari punte, l'ultima gara del campeonato del mondo di quest'anno perché ricordiamo che con il risultato di ieri Louis Hamilton e Max Verstappen andranno ad Abu Dhabi con lo stesso punteggio ma quello che è successo comunque in questo nuovo circuito dell'Arabia Saudita apre a certi scenari e a importanti discussioni soprattutto per quanto riguarda la direzione della corsa che evidentemente è stata abbastanza approssimativa per usare un eufemismo per usare invece un termine un po' più corretto ha evidenziato limiti grossi nella gestione di un bel duello in generale tra due piloti che stanno giocando il mondiale e sono due piloti veramente di alto livello e a prescindere dalle polemiche che hanno dimostrato anche oggi partiamo però come al solito dalla fine, il podio vede la vittoria di Louis Hamilton, secondo Max Verstappen e terzo Valtteri Bottas che è involata a stampa Esteban Ocon ma è tutto il contesto da spiegare, eravamo a Jeddah, nuovo circuito dell'Arabia Saudita, un circuito cittadino lungo 6 km, come vediamo dalla grafica sono 27 curve come media di velocità siamo praticamente ai dintorni di Monza, praticamente Jeddah è il secondo circuito più veloce del mondiale come media di km orari rimane un circuito parecchio pericoloso, infatti io prima confrontandomi anche con alcuni miei amici in privato avevo pronosticato che ci sarebbero state tante safety car o bandiere rosse perché se vedete Jeddah è praticamente Singapore come configurazione di circuito molto più veloce con pochissime vie di fuga quindi ogni minimo errore condanna il pilota ad andare a muro e verosimilmente se nel migliore dei casi è virtual safety car nel peggiore dei casi o safety car o bandiera rossa ed incidenti ne abbiamo visti sia in Formula 1 sia in Formula 2 e già nei primi giri di gara Mick Schumacher va a muro bandiera rossa al decimo giro su 50 previsti e già qui ci sono come dire le prime avvisaglie che sta per succedere qualcosa di importante durante tutta la gara di Jeddah perché il Gran Piano dell'Arabia Saudita avrà tanti episodi di cui discutere e ci soffermeremo soprattutto sulle immagini più significative in particolar modo possiamo parlare di questa immagine che non è la più significativa ma darà l'idea di quello che succederà da qui al fine del Gran Premio dell'Arabia Saudita che dura 50 giri vedremo spesso tanti duelli in curva 1 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen la gran parte delle quali oltre i limiti del regolamento ma come dire sanzionati molto meno da quanto dovrebbero rispetto alla direzione gara questo in realtà è uno dei pochi contatti per il quale la penalizzazione è pure giusta perché alla prima ripartenza Verstappen in curva 1 va di fatto in esterna Hamilton è in pista e fa la sua traiettoria Hamilton peraltro nell'evitare che Verstappen gli venga addosso perché Verstappen praticamente esce dall'interno per entrare verso appunto la traiettoria della pista dovrà appunto rallentare e farsi superare da Esteban Ocon che sarà spettatore di un episodio tanto discusso della direzione gara e tra poco ne parleremo ovviamente questo è già come dicevo prima il primo presagio che qualcosa sta per succedere in tutto il Gran Premio dell'Arabia Saudita ed entra in gioco qui molto spesso la direzione corso di cui non ho mai parlato per tutto il campionato ma qui evidentemente un appunto va fatto ed è un appunto più che grosso perché ricordiamo che con alcune decisioni non dico si rischia di influenzare il campionato del mondo ma comunque bisogna avere dei regolamenti precisi e attenti appunto perché ci sono due piloti di altissimo livello a Hamilton e Verstappen che stanno giocando il mondiale il primo episodio tanto controverso arriva qui nel senso che l'immagine che adesso vi faccio vedere è abbastanza esemplificativa e riguarda la seconda ripartenza vediamo che qui è in realtà una grande manovra di Verstappen che è una delle poche pulite che farà durante la gara però in questo caso va dato merito al piatto orlandese di quello che ha fatto con Ocon che parte primo, Hamilton che parte secondo e Verstappen terzo Verstappen riuscirà a completare il sorpasso da terzo a primo nella prima staccata come una manovra incredibile ma è come ci si è arrivati a questa griglia di partenza della seconda bandiera rossa perché nel frattempo oltre all'incidente a Mick Schumacher c'è un incidente che coinvolge Mazepin che intappo una Williams e Perez che praticamente ha un contatto con Leclerc e anche lui finisce a muro in esce la bandiera rossa e qui inizia il circo della direzione gara perché non so se l'avete notato in regime di bandiera rossa la direzione gara nella persona di Michael Masi il direttore di gara apre i microfoni e sostanzialmente va a contrattare con la Red Bull la posizione di partenza di Verstappen o meglio va a fornire un'offerta al piloto olandese questo perché anche qui c'è stata una manovra scorretta di Verstappen appunto come dicevo prima che è andata appunto in curva 1 tagliandola verso l'esterno e poi rientrando in pista dall'interno le immagini le avete viste poco fa obiettivamente noi sappiamo che su bandiera rossa la partenza deve essere riprogrammata al giro precedente quindi c'è un regolamento ora Verstappen in questo caso ha fatto una manovra sbagliata di conseguenza per il registro che hanno tenuto anche in Formula 2 queste manovre vanno evidentemente penalizzate di 5 secondi qui evidentemente Michael Masi non ho capito per quale cacchio di motivo decide di aprire i microfoni con la Red Bull e proporre delle alternative di partenza a Verstappen in sostanza gli hanno detto nella prima versione guarda Max ti facciamo partire secondo con o con primo e vi diamo questa offerta avete un minuto per pensarci poi Michael Masi riapre il microfono e corregge no ragazzi scusate mi sono sbagliato c'è pure Lewis Hamilton vi facciamo partire terzo dietro a Lewis che peraltro era la situazione corretta perché Verstappen è potuto restituire ovviamente la posizione al pilota inglese e già qui abbiamo i grandiosi limiti della direzione di gara perché come dicevo prima c'è un regolamento il regolamento va rispettato e come diceva Matteo Bobby di Sky giustamente se Verstappen ha tagliato la curva e non è stato in pista è una manovra scorretta che va oltre i limiti del regolamento questa manovra va prima investigata e poi penalizzata qui non è stato fatto né uno né l'altro è stato fatto questa sorta di compromesso all'italiana mi verrebbe da dire con questa offerta di questa ripartenza Verstappen che comunque è un pilota di livello assoluto va poi a meritarsi la prima posizione in pista e riesce evidentemente a conquistare la prima posizione gli episodi però non sono finiti qui perché obiettivamente visto che ci sono due piloti che giocano nel mondiale evidentemente il regolamento è un po' ballerino per loro due e anche qui la direzione di gara ne combina più di Carlo in Francia questo è un episodio significativo assolutamente forse il più significativo di tutta la gara di Jedda anche qui Verstappen fa una manovra scorretta deve restituire la posizione a Lewis Hamilton evidentemente ma è una manovra un po' diversa purtroppo non ho l'immagine che non riesco a farvela vedere è una manovra sempre fatta in curva 1 dove sia Hamilton sia Verstappen tagliano Verstappen taglia di più rispetto a Hamilton e Verstappen rientra davanti al pilota inglese questo incidente viene investigato finalmente peraltro verranno anche combinati 5 secondi di pedalità allo stesso Verstappen Verstappen la Red Bull però cos'è che dice a Max Verstappen apre il microfono e dice di restituire la posizione a Lewis Hamilton Verstappen effettivamente rallenta per restituire la posizione a Hamilton il problema è che Verstappen lo fa nella traiettoria della pista di Jedda la traiettoria ideale Hamilton se ne accorge tardi tampona Max Verstappen e dunque Hamilton si ritrova a fare la gara con l'ala parzialmente danneggiata ora anche qui la direzione gara ha detto che avrebbe investigato il tutto dopo la competizione ma anche qui è un errore gigantesco perché punto primo se tu Verstappen restituisci la posizione non devi essere in traiettoria devi spostarti e far passare il tuo diretto rivale se comunque hai fatto un errore in secondo luogo ok che Hamilton ha tamponato Verstappen e Verstappen evidentemente ha fatto un po' il furbo è anche vero che chi tampona ha torto e abbiamo già visto anche che chi ha tamponato ha ricevuto penalizzazioni io mi ricordo distintamente a Baku successe la stessa cosa a parte invertita tra Hamilton e Sebastian Vettel allora sulla Ferrari anche qui Hamilton rallentò parecchio anche se eravamo in regime di safety car Vettel a fianco a Hamilton il due si presero Vettel venne penalizzato perché appunto tamponò Hamilton tendenzialmente per quanto discutibile una penalizzazione ci poteva stare ma la mia visione è un'altra Hamilton ha avuto un danno alla macchina abbiamo visto in passato in questa pista delle prove particolarmente che se uno perde un pezzo di ala in generale su questa pista che è iperveloce si va di media 260-270 km orari evidentemente c'è un grande grado di pericolosità abbiamo visto per esempio Sainz senza l'ala posteriore che momenti finisce nel muro ora se c'è una parte danneggiata che può essere pericolosa esiste la bandiera bianconera la bandiera bianconera impone ai piloti di fermarsi evidentemente perché in queste condizioni non possono proseguire in corsa normale di conseguenza Hamilton poteva essere fermato ai box tramite un provvedimento della direzione corsa che anche qui ha lasciato correre di conseguenza analizzando tanto questi episodi abbiamo notato che non c'è stata una penalizzazione a Verstappen evidentemente per il break test perché Verstappen fa palesemente break test un po' come in Formula 1 2021 la CPU ti frena davanti e tu sei praticamente costretto a prenderla a tutte le difficoltà che sia quella che gioco io a difficoltà 75 sia quelle delle e-sport che giocano a 110 e questa va penalizzata d'altro canto secondo me Hamilton andava penalizzato un po' per il taglio di curva che abbiamo visto perché anche Hamilton in quell'episodio ha tagliato Verstappen ha tagliato di più ma anche Hamilton non è che sia passato proprio in pista è passato fuori quindi anche Hamilton poteva essere penalizzato Hamilton poteva essere a sua volta fermato per l'ala rotta e quindi fare un stop in più e poi avere comunque una sanzione regolare perché il regolamento prevede evidentemente questo non in Arabia Saudita evidentemente non per Michael Masi che ha evidenziato dei limiti giganteschi in questa competizione e si è visto tutto diciamo l'approssimazione della direzione gara a Jedda non succede niente di questo alla fine Hamilton passa perché Verstappen cede la posizione Hamilton alla fine vincerà e sono 106 vittorie in carriera per il pilota inglese che appunto è la terza vittoria di fila nelle ultime tre gare secondo Max Verstappen che di fatto manco festeggia anche se Verstappen ha poco da festeggiare perché di scorrettezze quest'anno a meglio in questa gara Verstappen ne ha fatte tante e le ho elencate praticamente tutte comunque in ogni caso al netto dei limiti grossi della direzione gara abbiamo uno spettacolo garantito ma non dovrebbe essere così perché come dico da tante gare a questa parte lo dico anche dal contatto che ci fu tra Verstappen e Hamilton in Brasile la direzione gara deve avere un regolamento il regolamento è quello e bisogna avere un metodo di giudizio preciso non è vero e non è possibile che in ogni gara ci siano dei regolamenti diversi applicati un po' a sensazioni in base al collegio di commissari e a come si sveglia Michael Masi questo è inaccettabile anche perché ripeto hai un mondiale molto bello che si sta giocando tra due grandi piloti e dunque bisognerebbe avere dei metri di giudizio univoci e uniformi io ho formulato qualche ipotesi da appassionato ventennale di Formula 1 però ripeto io sono qui sul divano a commentare nel RSI Podcast di oggi Michael Masi è lì a dirigere ma probabilmente mi auguro che Michael Masi venga sostituito l'anno prossimo perché si è visto in questa gara tutta l'inadeguatezza mi verrebbe da dire del direttore di gara che probabilmente ha preso molti meno provvedimenti di quanto doveva prendere perché evidentemente è ovvio che adesso Hamilton e Verstappen stanno praticamente facendo quello che vogliono in pista e vengono praticamente non dico graziati tutte le volte però diciamo che c'è un occhio di riguardo verso lo spettacolo che per l'amor di Dio c'è e sono contento che ci sia però io vorrei anche dei regolamenti più precisi che possano evidentemente avere un campionato ancora più regolare di quanto non sia in realtà con questa vittoria dicevo Hamilton torniamo intanto allora ai risultati ufficiali della pista va a 106 vittorie in carriera e per lui suona di nuovo God Save The Queen per la terza vittoria consecutiva e siamo a pari punti ora sia Verstappen sia Hamilton sono a 369,5 punti in questo momento è davanti Verstappen per i migliori piazzamenti ma è evidente che chi dei due piloti andrà davanti ad Abu Dhabi sarà incoronato campione del mondo di conseguenza ci potrebbe essere l'ottavo titolo del mondo per Lewis Hamilton di rimonto su Verstappen oppure il primo titolo del mondo per il pilota olandese che comunque sta facendo di tutto il mio modo di vedere per buttarlo via perché è dal Gran Premio del Brasile che Verstappen sta giocando letteralmente in difesa e forzando oltremodo perché è vero che Hamilton ha la macchina più fresca ha cambiato un motore in Brasile e ha avuto una penetrazione per questo ma è altrettanto vero che la Red Bull da 6 gare a questa parte o 7 addirittura sta correndo con lo stesso motore che va sempre di più a consumarsi e di conseguenza è ovvio che la Red Bull abbia praticamente meno prestazione della Mercedes Verstappen cosa aveva deciso di fare in questa gara dell'abbia solita aveva deciso di forzare l'inverosimile in qualificazione perché comunque c'era una buona parte di pista favorevole alla Red Bull e purtroppo vanifica una pole position che era fatta praticamente per tre decimi buttandosi a muro in curva 27 all'ultima e poi Verstappen ha fatto quello che ha fatto già il fatto che sia arrivato secondo anche dopo la gara è un mezzo miracolo secondo me perché per quello che ha fatto Verstappen doveva ricevere tante secondi di penalizzazione e anche Hamilton doveva ricevere a suo modo secondi di penalizzazione o quantomeno fermarsi per la larotta non è stato così è stato tutto fatto passare come polvere sotto al tappeto in modo sembra inspiegabile ma va bene così alla fine abbiamo due piloti che si giocheranno il mondiale all'ultima gara cosa che è successa per il momento una volta sola in questa condizione cioè con due piloti a pari punteggio terzo è il buon Gualtiero Percos al secolo Valtteri Bottas che ha la meglio di uno straordinario Stefano Ocone al secolo è Stefano Ocone in volata Ocone che per me è il driver del giorno perché al netto che gli altri due davanti si stanno veramente scannando a ogni curva e se possibile si buttano fuori e anzi se devo spendere un centesimo su una prediction secondo me Hamilton e Verstappen si buttano fuori entrambi e Verstappen vince il titolo a pari punti con Hamilton ma è primo lui per maggiori piazzamenti Ocone ha beneficiato della pole position della ripartenza da policente di Leclerc scusatemi non di Leclerc di Perez e di Mazepin è stato terzo per tutta la gara ha perso il podio per un decimo ma comunque Ocone in questa pista ha fatto una grande grande gara e dunque il driver del giorno quinta posizione per Daniel Ricciardo che si risolleva dopo un gran premio del Qatar oltremodo disastroso ed evidentemente alla meglio di Landon Norris oggi veramente la brutta coppia di se stesso settimo è Charles Leclerc per una Ferrari che praticamente facendo come la McLaren sono le macchine che teoricamente si giocano nel terzo posto della classifica dei costruttori ma stanno praticamente scendendo sempre di prestazione ok che siamo di fatto alle ultime gare però è una lotta un po' tra poveri per cui bene che vada le McLaren finiscono quinta e sesta e le Ferrari finiscono settima e ottava o viceversa qui finisce quinto Ricciardo settimo Leclerc ottavo Carlos Sainz che in realtà se questo ci vuole ho capito veramente poco perché è dovuto partire dalla Q3 e con un studio diverso ha comunque riuscito ad arrivare nelle posizioni dei punti non ha posizione per Antonio Giovinazzi e qui bisogna fare una parentesi gigantesca sul nostro pirata italiano che ha la meglio di Kimi Raikkonen in tutte le sessioni dalle libere alle qualificazioni pure in gara Giovinazzi conquista due punti fondamentali per il morale per dimostrare che comunque lui è un pilota che può stare in Formula 1 al netto di quello che pensano in Alfa Romeo Sauber che hanno preferito Guagno Joe all'Antonio Giovinazzi e vedremo che grandi prestazioni ha fatto Guagno Joe in Formula 2 non è vero perché ha preso la paga da Oscar Piastri ma ovviamente ne parliamo dopo ovviamente nel giorno in cui è stato anche annunciato Giovinazzi con i primi test del team Dragon Racing in Formula E si toglie il lusso di finire in top 10 e giocarsela con le Ferrari perché per gran parte della gara Antonio è stato davanti alle Ferrari di cui sarebbe peraltro il terzo pilota appunto si sta congelando nel migliore dei modi Antonio alla Formula 1 spero che arrivi un altro apprezzamento appunti anche ad Abu Dhabi per poi un domani rivederlo in una Formula 1 che dall'anno prossimo sarà priva appunto di nostri portacolori ultima posizione appunto l'abbiamo già accennato prima è Lando Norris che appunto sembra la brutta coppia di se stesso e sta praticamente scemando verso le posizioni di metà classifica anche del campionato del mondo perché sta per essere raggiunto anche da Carlos Sainz male che vada Norris finirà settimo questo campionato del mondo ma è stato terzo per gran parte del tempo è un campionato del mondo che dunque adesso avrà una gara soltanto alla fine si correrà ad Abu Dhabi sperando che Michael Masi si ridima delle cagate fatte nella direzione gara e offra uno spettacolo di gestione gara onesto pulito e coerente con i metri di giudizio visti nei gran premi precedenti cosa molto difficile perché sappiamo che il collegio di commissari è sempre diverso e di conseguenza le penetrazioni e i metri di giudizio sono sempre diversi logicamente però in un campionato di così alto livello ripeto bisogna che ci sia dei direttori di gara competenti e che applicino il regolamento alla lettera anche perché se uno non è in grado di fare quel ruolo è giusto che venga sostituito nelle prossime stagioni come peraltro è giusto che sia perché evidentemente ripeto ancora una volta la direzione gara oggi poteva fare tanto tanto di più magari avrebbe vinto Hamilton lo stesso avremmo visto comunque un podio Hamilton vs Up in Bottas logicamente però così dei dubbi ci vengono per non dico la sicurezza del campionato perché assolutamente no però comunque ripeto è sbagliato che per il solo fatto che siano i due campioni del mondo a giocarsi appunto questi episodi controversi ci sia un regolamento che venga un po' accantonato magari e per altri piloti no ma comunque questo è un altro discorso questa domenica ultima gara della stagione a Santa Lucia si correrà a Abu Dhabi in realtà sarà il 12 di dicembre e qui ci sarà anche lì il recent podcast alle 19 dunque in diretta per vedere chi tra Hamilton e Verstappen avrà il titolo del mondo di Formula 1 c'è invece un pilota solo al comando in Formula 2 che si sta avvicinando lentamente ha il titolo di categoria ed è l'unico che appunto dei due contendenti non andrà in Formula 1 e parliamo di Oscar Piastri che vince due gare su tre in Arabia Saudita e fa praticamente quello che ne ha voglia ha dimostrato Oscar Piastri di essere un pilota veramente completo quattro pole position consecutive in qualificazione da Silverstone a Jeddah due vittorie su tre gare al netto che la feature race è stata a corsa anziché no in una gara a tempo con tante bandiere rosse e una gara che è stata poi interrotta anche lì nonostante il tempo comunque per due gare su tre suona Advance Australia Fair per colui che praticamente è indirizzato verso il titolo di categoria e Oscar Piastri non sarà in Formula 1 perché ci andrà questo ragazzo Guanyo Zhou che per l'amor di Dio a me non è che dispiaccia il pilota cinese anzi probabilmente meritava anche di più di questa terza posizione il problema è che Guanyo Zhou ha dimostrato di essere molto incostante nel corso dell'anno in Formula 2 e non è neanche più secondo nel campionato perché nelle ultime gare ha fatto veramente pietà ed è Robert Schwarzman che adesso è secondo altro pilota che non andrà in Formula 1 nonostante sia campione di Formula 3 e l'anno scorso non si è riuscito a concretizzare evidentemente quello che doveva concretizzare quest'anno si è trovato un Oscar Piastri oltre modo competitivo il problema è che appunto Guanyo Zhou ha un bacino di sponsor molto munifico e anche per il passaporto che possiede Alfa Romeo ha deciso di investire su di lui che non finirà neanche secondo nel mondiale mentre Oscar Piastri pilota più completo che peraltro ha fatto lo stesso percorso di Leclerc e Russell cioè probabilmente vincerà Formula 2 dopo aver vinto la Formula 3 in anni consecutivi sarà il terzo pilota della Renault ma ripeto per Piastri secondo me un domani posto in Formula 1 ci sarà è un peccato vedere un pilota di così tanto talento fermarsi un anno un po' come fece Stoffel Van Dorn quando dalla GP2 passò al terzo pilota della McLaren la prima gara però del circuito cittadino di Jedda lo vince Marcus Armstrong pilota neozelandese del Ferrari Junior Team e per lui suona God Defend New Zealand in un podio che ha doppietta neozelandese che è qualcosa di straordinario incredibile perché secondo è Liam Lawson pilota del Red Bull Junior Team di cui l'anno prossimo sentiremo parecchio parlare terzo è un altro membro del Red Bull Junior Team ovvero l'Eston Yuri Vips altro pilota parecchio interessante che mi auguro possa avere la conferma anche lui l'anno prossimo in Formula 2 di Oscar Piastre vincitore nella Sprint Race invece ne abbiamo già parlato secondo è Bent Vishkal pilota olandese del Team Trident quindi grande gioia per il team italiano di Maurizio Salvadori primo podio in stagione per il pilota olandese e terzo è Robert Schwarzman che appunto conquista i punti necessari per arrivare definitivamente al secondo posto in questa classifica del campionato di Formula 2 Schwarzman peraltro completa la doppietta del Team Prema in gara 2 o meglio in Sprint Race e terzo è Ralf Boshung pilota svizzero molto esperto della categoria Formula 2 al primo podio della stagione se non sbaglio della carriera quindi anche per lui soddisfazione immensa e soprattutto per il Team Campus cioè anche qui una nota a margine io mi aspettavo degli incidenti anche in Formula 2 ce n'è stato uno abbastanza preoccupante quantomeno per la dinamica perché Théo Poucher pilota francese stalla in partenza e in feature race viene centrato in pieno da Enzo Fittipaldi che non riesce a evitare l'impatto con l'Art Grand Prix del pilota francese Fittipaldi e Poucher poi sono stati portati all'ospedale per gli accertamenti del caso ha avuto la peggio evidentemente Fittipaldi che comunque è cosciente e per quanto può sta bene ha avuto delle perdite evidentemente di sangue agli arti inferiori evidentemente non lo rivedremo ad Abu Dhabi speriamo che entrambi i piloti possano riprendersi per l'anno prossimo soprattutto Poucher perché è un pilota di futuro a venire per la Francia e per la Formula 2 in generale in ogni caso anche la Formula 2 chiuderà i battenti ad Abu Dhabi e si assegnerà il titolo del mondo di questa categoria ma di fatto Oscar Piastri ha un piede tre quarti verso l'inquisto del titolo e peccato davvero che l'australiano non sia in Formula 1 mentre ci sarà Guanyo Gio che in queste ultime gare ha dimostrato veramente di essere molto incostante a differenza del pilota australiano mentre in Formula 1 ricordiamo si giocherà all'ultima gara al tutto per tutto il titolo del mondo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen chi sarà davanti avrà modo di conquistare il titolo sarà ottavo titolo per Lewis Hamilton o primo in carriera per Max Verstappen secondo voi fatemi pronostici nei vostri commenti intanto il resto in pot si conclude qui ci vediamo domenica alle 19 per il commentare e il premio di Abu Dhabi e saluto da parte di me di Torger ci vediamo al prossimo video